Eh, le vocali mi hanno rotto. Rientri troppo tardi, Louise. Sì, sì. Non prendertela. Per questo non fai progressi. Chi è? Sono Flambart. Ti faccio entrare, le rubo solo cinque minuti. Vengo per la mia piccola percentuale sul suo salario. Ma ho anche una piccola sorpresa. Ecco. 50, 60. Eh, molto bene. Sono una persona onesta io. A zero il suo debito mensile. Detto questo, le chiedo ancora scusa. Lo so che è tardi, ma vede... me lo impone il senso del dovere. Eh, sa, noi non abbiamo orari. Sì, le vostre 45 ore a settimana ci fanno quasi ridere.